Amici e amiche carissime, eccoci di nuovo presumibilmente per l'ultima puntata di questo lungo ciclo di Catechesi dedicata al libro di Teneramate che stiamo, come tutti sappiamo, ripercorrendo nei tratti salienti. Diciamo così un commento un po' teologico, ex post, alla luce delle considerazioni di quel caro confratello, amico e sacerdote che ne ha curato la traduzione in lingua italiana, che è Don Pablo Martin, che ha scritto poi appunto questo libretto che è fondamentalmente un commento a quanto emerge dal libro di Teneramate. Mancava pochissimo, quindi io direi di procedere così. Forse magari questa sera sarà una puntata un po' più breve, adesso non lo so come si mettono le cose. Sennò proviamo a terminare la lettura, il commento del testo di Don Pablo e poi magari, come spesso faccio ai termini di cicli di Catechesi, possiamo riprovare a fare un po' un flyover, una sorta di volo di gabbiano a ritroso che ridia un pochino il quadro di quanto, con l'aiuto del Signore, speriamo che questo possa essere di utilità a qualche anima, siamo venuti molto imperfettamente a tessere. Ci siamo lasciati la volta scorsa appunto nell'ultimo ampio paragrafo, intitolato la conferma definitiva, il cielo e l'inferno. Riprendo la lettura. Ogni uomo è stato creato come un riflesso di un insieme di perfezioni divine. Non ci sono due uomini uguali. Ognuna è quella singola, inconfondibile persona che è, a motivo della sua specifica missione o vocazione per cui è stato creato. in base alla dote che Dio gli ha dato delle sue divine perfezioni, ossia in base al ritratto singolarissimo che Dio ha fatto di sé creandolo. Quindi ogni persona, amici cari, di per sé è un prodigio, è un qualche cosa di splendido, di meraviglioso in quanto pensato da Dio. Noi sappiamo, per chi conosce la divina volontà, che tra l'altro, misteriosamente nel modo che soltanto lui sa come possa aver fatto una cosa del genere, ma tutte le vite pensate da Dio, cioè dei miliardi di esseri umani, se siamo 8 miliardi adesso, quanti saremo stati? Quanti ce ne saranno stati prima di noi da Adamo fino a oggi e quanti ce ne saranno prima della fine del mondo? Credo, siamo abbastanza tantini. Sono numeri abbastanza da capogiro, mi chiedo sempre, ci lo sa, quanti saranno gli angeli? E questo signore quando fa le cose, le fa sempre non una alla grande, alla stragrande, quindi tanta roba, no? Immaginate quindi anche la fantasia che c'è, cioè creare miliardi e miliardi di esseri umani, dove ognuno ha uno specificissimo, singolarissimo, triditratto sua, una versione ben particolare, questo lo ricordo sempre, lo ricordo anche a me, noi, lo dico agli amici per esempio che stanno ascoltando la diretta o a chi ascolterà la differita, non è un caso, non soltanto che ci siamo, d'accordo? E che siamo fatti così come siamo fatti, ma che siamo vissuti in questo momento storico preciso, così come è con le sue bellezze e le sue cose meno belle, con i suoi travagli, i suoi problemi e anche le sue opportunità, le sue prospettive, quindi non è mai un pensiero saggio desiderare, diceva se fossi vissuto in quell'altro periodo storico sarei campato meglio, no. Il nostro posto è qui. Uno potrebbe obiettare, ma guarda che gli esseri umani non è che sembrano tanto così belli, tanto è vero che i grandi pagani, io ricordo Seneca, non sono mai andato in mezzo, non mi ricordo se era Seneca o Terenzio, per la verità, questi ricordi della letteratura latina, uno dei due, non sono mai andato, forse Terenzio forse questo qui, non sono mai andato tra gli esseri umani senza tornare indietro, o meno uomo di prima, lo scriveva così. E Seneca diceva se c'è una cosa che bisogna sempre e comunque fuggire è la folla, ecco, perché non si rimane mai edificati, no? Come mai? Alcuni filosofi, poi, molto pessimisti, addirittura hanno teorizzato quelli più famosi, l'uomo omini lupus, no? Quindi, e poi quegli altri più ingenui, che pensano che va tutto bene, il mito del buon selvaggio, no? No, gli uomini, tutto sommato, sono belli, sono buoni. No, non è così. L'uomo, la visione divina e cattolica dell'uomo, conserva questo che ci stavo detto, ovviamente, però non dimentica che purtroppo c'è il peccato originale. perché la presenza del peccato nel mondo non è acqua, ahimè. E quindi, in un'anima che non vive in grazia, non vive stretta al Signore, tutta quanta questa bellezza non traspare, non si vede. Anzi, gli uomini possono diventare, come dice Gesù in certi passaggi, proprio dei mostri, cioè dei personaggi assolutamente insopportati. insopportabili. Questo perché? Non perché l'anima non sia bellissima. L'anima non perde mai le sue dotazioni di fondo. Il problema è che tutto il problema, come risulta per chi la conosce dagli iscritti della serva di Dio, Luisa Piccarreta, sta nella volontà umana che è una grande risorsa, se usata bene, ma è un grande guaio, se usata male. È il dono più grande che Dio ci ha fatto, quello che più ci rende simili a Lui. però il problema è che dopo il peccato originale, usarla bene la nostra volontà, eh amici cari, è un bel problemino. E se la usiamo male, che succede? Succede che la bellezza intrinseca che c'è in noi è deturpata. Possiamo fallire la nostra missione? Certo. Possiamo fare il contrario di quello che Dio voleva? A voglia. Possiamo non tirar fuori i nostri talenti? Certamente. Non utilizzare i nostri doni? Sì. Ce l'ha detto anche Gesù nel Vangelo, c'è la parabola dei talenti, metterli sotto terra. Sì, purtroppo. Allora, quando ci si accosta a queste fonti, diciamo, celesti, che quindi si riscoprono queste bellezze, servono anche a farci imparare anzitutto il sano amore di noi stessi. e anche magari un po' di umiltà per piangere un po', le nostre miserie che purtroppo impediscono molte volte a noi stessi l'utilizzo dei nostri doni, dei nostri talenti. Ci aiutino anche a saper vedere nel prossimo, ma anche in quei prossimi che a causa della volontà umana hanno di molto, diciamo, scurato la loro bellezza ricevuta da Dio di non dimenticarlo mai. Per questo che il Signore non vuole che si odi il prossimo, non vuole che si auguri il male, non vuole che si maledica, perché fino a quando siamo su questa terra anche chi ha intrapreso vie balorde, chiamiamole così, è recuperabile, dobbiamo sperare che lo sia. Le situazioni diventano radicalmente irrecuperabili solo dopo la morte. Certo, quando una persona purtroppo si infogna parecchio, ma non mancano nel corso della storia della Chiesa episodi di conversioni strepitose e anche veramente miracolose anche da gente che se uno l'avesse conosciuto prima della conversione diceva questo non si convertirà mai, insomma, no? Ecco, quindi la considerazione e l'attenzione a queste cose deve sempre farci ricordare la bellezza di queste verità, amici cari, no? Proseguo. Pertanto, nell'ingresso che l'uomo fa nella patria celeste, la prima cosa che comprende è la sua vera identità, la sua vera vocazione terrestre e celeste espressa nel suo nome nuovo, questo del nome nuovo è una, tanto è vero che Tenera Amata come sappiamo è qualche cosa che assomiglia al nome nuovo perché Tenera Amata è il nome vecchio, dice noi il nome vecchio non ci pensiamo proprio più, a me ne fa sempre un po' di specie, insomma, Leonardo Maria Pompei in paradiso non ci sta più, Leonardo, cioè, a me da piccolo non mi piaceva per niente il mio nome, adesso ho imparato a farsi un pochino facile, nel senso che non mi dispiace affatto il nome Leonardo poi che ci sia vicino Maria ancora di più io ce l'ho vicino non solo per la consacrazione totus tuus questo è il regalo che mia mamma mi ha fatto nel giorno del battesimo e aggiungerlo però quando saprò chi sono perché io non lo so chi sono un grande mistero anche a me stesso anzitutto non lo so profondamente chi sono noi intuiamo lontanamente forse qualcosa ma nessuno di noi è capace qui in questo mondo di vedere se stesso o gli altri con gli occhi con cui ci vedono dal cielo quando c'è qualche come dire manifestazione o rivelazione privata che magari fa luce su qualche essere umano ancora vivente escono fuori delle cose abbastanza inedite perché si capisce che dall'alto ci sono altri occhiali e per cui le persone che pure apparentemente sembrano insomma chissà però sono visti appunto con gli occhi del cielo gli occhi del cielo sono diversi da quelli della terra no quindi attenzione che questa vera identità è questo nome nuovo che scopre soltanto in paradiso quindi penso che qualche piccolo sforzo per arrivarci ne valga la pena perché i dannati non lo conoscono cosa dice l'avocalisse al vincitore darò la manna occulta e la pietruzza bianca su cui sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo dice al vincitore chi è il vincitore è quello che ha combattuto la buona battaglia della fede fino al martirio perché sappiamo che l'avocalisse è proprio intrisa di questo anelito al martirio no quindi amici cari c'è un combattimento tante volte se ne è ramata esorta Riccardo dice ma io voglio morire subito tu cerca di crescere nella fede cerca di aumentare i meriti cerca di farti il più santo possibile e tutto questo certamente avviene all'interno del combattimento spirituale San Paolo la fede la chiama il buon combattimento lo è molte sono le prove che attendono il giusto dicono i salmi adesso non voglio mandare quest'otto nella serata nel weekend a nessuno ma da tutto lo libera il Signore questo nome ineffabile dirà ciò che questa creatura è per Dio ciò che è sarà in eterno il suo rapporto d'amore con Dio e con tutte le altre creature e la sua personale eredità è dote di eterna felicità ecco perché è molto importante per esempio imparare ad essere mi si passi il termine sanamente se stessi non dico essere se stessi perché sapete purtroppo le espressioni a slogan del nostro linguaggio si prestano ad essere fraintese purtroppo perché vabbè io se ho fatto così non è non può diventare una scusa per non lavorare su noi stessi cercare di toglierci i difetti o di controllarli o di migliorare o di crescere nelle virtù no diciamo ma io devo essere me stesso in senso profondo quindi quelle cose migliori di noi ecco quelle attitudini che quando ci guardiamo cioè non è una cosa buona amici miei cioè guardarsi ne 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 lo sguardo del superbo che si pensa di essere chissà chi ma nemmeno lo sguardo del depresso che si pensa di essere un fallimento totale non è questa seconda cosa non è umiltà io l'idea che mi sono fatto dell'umiltà è questa sia quando una persona percepisce magari anche alcune doti alcune potenzialità che ha e poi purtroppo vede che quando le mette in atto non è che vada proprio alla grande ecco perché si porta dietro tare limiti difetti imperfezioni che sembrano a volte quasi invincibili e come lo capisce dice vedi annazza ogni volta che ne faccio qualcuna devo sempre come dire imperfezionare in qualche modo però non è un buttarsi il fango addosso gratuitamente Dio non vuole questo qui amerai il prossimo tu come te stesso dobbiamo imparare un sano modo di amare noi stessi non possiamo non amare noi stessi perché se io non amo per niente me stesso sto dicendo che Dio si è sbagliato a crearmi ma Dio non si è sbagliato a crearmi Dio ci ha fatto come un prodigio dice il salmo 138 ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio quindi capite una sana come dire idea di noi stessi è una meta da conquistare perché è difficile trovare quell'equilibrio che ci faccia avere una sana idea di noi stessi e quindi un sano amore di noi stessi che Dio vuole anche alcune cose esteriori su cui io sembro a volte un pochino fissato quindi una sana ma non disordinata cura del nostro esteriore quindi che tu sia sempre pulito ordinato dignitoso ma non artefatto l'essere artefatti pensate un attimo a riflettere su questa cosa quando una persona altera il proprio aspetto in maniera proprio artificiale caricata capite non vi sembra che dentro questa prospettiva è come se stessi dicendo a Dio voglio farmi più bello di come mai fatto cioè i capelli me li voglio far biondi ma noi ci chiediamo che ogni minimo dettaglio è stato pensato da Dio per te a me pure piacerebbe averci ancora qualche capello in testa ma il nostro signore non aveva pensato così e noi sappiamo che la vita umana è fatta di tanti tanti organismi che costituiscono il nostro organismo globale io ce l'ho avuto i capelli se voi vedete la foto da 30 anni ancora c'è un sacco di capelli riccioletti ma non ce l'ho più allora che facciamo dinanzi a una cosa del genere faccio il travianto per un prete tanto per dire oppure cerco di comprendere non è la cosa più importante io faccio gli esempi esteriori perché sono quelli che coinvolgendo i nostri sensi rendono un po' comprensibile il concetto facciamo che siamo diversamente belli guardate che siamo tutti belli perché ogni ente in quanto ente è bello pure quelli che non sono che non hanno dotazioni come dire particolari da un punto di vista come dire di particolare attrattività chiamiamola così di particolari dettagli molto difficile trovare una bellezza perfetta e statuare ci stanno però siamo tutti belli più o meno poi nella misura in cui amiamo Dio oggi alla festa di San Filippo Neri diventiamo sempre più belli perché la bellezza come tante volte ho detto traspare dal tratto dal volto dallo sguardo dal portamento ecco quindi dobbiamo provare a cercare un po' un qualcosina della nostra profonda identità anche in questa vita anche se non ci arriveremo mai a capire bene chi siamo qui ma quello che possiamo e dobbiamo fare è usare bene la nostra volontà per cercare di fare il meglio che possiamo il meglio che possiamo ecco perché questa nostra bellezza e dotazione appunto è impastata dell'eredità del peccato originale che c'è soltanto da sperare nel regno della divina volontà per vederla annientata o quantomeno bella neutralizzata se non in tutto quasi con la buona morte prosegue la lettura l'uomo lo spirito dell'uomo e recupera la piena libertà come ce l'ha dio recupera il perfetto domino di tutto ciò che è lui stesso materia energie spazio e tempo in tutte le sue fasi corporali presenti e viventi nell'eternità creata attenzione sempre con la buona morte cioè tenerla amata è un'anima beata non si pensi affatto che l'anima dannata può ripercorrere la sua vita andare non esiste così come non può conoscere il nome nuovo e così come non gode la guerra essenziale del paradiso in tutte o meglio come abbiamo detto dal primo istante della sua vita quando fu concepito fino al penultimo istante quello precedente alla morte quindi in tutte la morte ci priva del nostro ultimo involucro corporale cioè il corpo del nostro ultimo istante è l'ultima carta del nostro mazzo di carte è l'ultimo foglio del nostro almanacco che cade perciò al cimitero non si porta nessun corpo attenzione ma soltanto il cadavere questa se uno ci pensa è ovvio che sia così il problema è che io prima di leggere nella madre non ci avevo mai pensato poi quando l'ho letto per un attimo sono rimasto un po' disorientato ma com'è sta cosa e poi però non rimani disorientato ovviamente se c'hai certamente io ringrazio qualche anche attrezzatura teologica per poterlo comprendere no? soprattutto il rapporto tempo eternità che è proprio l'oggetto della grande liberazione di terra amata quindi noi prima magari prima di leggerlo perché sappiamo che esiste l'eternità e che esiste il tempo e non capiamo bene in che tipo di rapporti magari stanno queste due cose qual è la grande liberazione della madre la quinta dimensione cioè l'eternità creata cioè non l'eternità increata della santissima trinità ma l'eternità creata in cui vivono e persistono immutati nei loro spazi tempi tutti gli esseri che sono vissuti nel tempo l'ultimo prodigio dell'amore di Dio in ordine cronologico sarà nell'ultimo giorno la risurrezione universale attenzione che ci restituirà il nostro corpo o meglio più precisamente quello che la nostra anima lascia al momento della morte cioè il cadavere l'integrità corporale è senza dubbio una necessità fortemente sentita dall'uomo che ha attraversato la frontiera della morte i glorificati sono pienamente felici nella patria ma manca loro qualcosa che profondamente desiderano attendono la risurrezione è come se una persona mancasse un dito cioè non è che dice vabbè ma tanto io ho tutti e tanti gli spazi tempi della vita passata e vabbè c'è sta il cadavere chi se ne importa fammi a meno in questo modo quindi riducendo la portata della risurrezione e no non è così semplice perché scusate se uno è cieco dice vabbè ho tutto però non ce vedo e insomma se uno non c'ha le mani dice vabbè però ce vedo ma cammino e vabbè le mani non ce le ho senza mani si campa peggio o no se uno dice vabbè c'ho le mani e c'ho gli occhi ma non c'ho i piedi e insomma non c'ho le orecchie e insomma non c'ho un braccio e insomma ma pure non c'ho un dito il dito non è un grandissimo danno però tu non lo senti che non c'ha un dito se il nostro signore ne ha creati 5 vi ricordate c'era ovviamente un film visto nella mia preadolescenza con verdone e sordi che si chiamava il viaggio con papà a un certo punto fanno una truffa dovevamo fare una truffa dice dobbiamo fare un incidente perché dobbiamo fare le storce sordi all'assicurazione te dobbiamo far togliere la milza tanto non serve a niente che risponde ma come serve a niente ma se il nostro signore l'ha creato a qualcosa servirà ma serve a niente non ti preoccupare no non serve a niente serve sicuramente a qualcosa quindi è come se una persona mancasse un dito anche se viesse molto felice che altro potrebbe desiderare se no che riavere il suo dito io avrebbe avuto un piccolo incidente no un piccolo incidente diciamo di lavoro per giocare con i bambini dell'oratorio pensate un po' proprio un incidente di lavoro anni addietro quelli stavano a giocare a pallacanestre io sono messo a fare ragazzina a giocare a pallacanestre da 50 anni e mi è presa una pallonata sul dito mignolo della mano sinistra e mi ha fatto male solo che pensavo che fosse come una specie di insaccatura un po' trascurata faceva male dico però dopo un po' però dico ma sto cosa mi sta a affamare assai ho fatto un po' le telefonate qualcuno mi ha suggerito stira o non stira insomma alla fine sono andato a fare una lastra quando era un po' troppo tardi perché non era rotto ma quindi poi ci hanno provato ad adrizzarmi ma questo ormai i tendini erano saltati e questo mo lo tengo così cioè non è la fine del mondo è proprio una stupidaggine però ogni tanto io il dito dell'indice della mano sinistra non lo adrizzo più e in qualche circostanza te ne accorgi quindi non è la fine del mondo perché il dito il mignolo della mano sinistra insomma non è che c'è uno che ci fa un granché non suono più però se suonassi ancora la chitarra come facevo da giovane se non c'è il mignolo della mano sinistra non la suoni più la chitarra non la suoni più la chitarra uno strumento musicale non lo suoni se non c'è tutte e dieci le dita salvo la batteria forse insomma ma uno strumento non lo suoni io non suono più quindi non avverto troppo questo disagio ma se avessi suonato sarebbe stata una tragedia quindi non è che è niente eh quindi poi superare positivamente la prova della vita terrena vuol dire vivere e morire in libera attenzione libera adesione alla volontà di Dio mediante la testimonianza di una buona coscienza e per quanto la creatura può conoscere di Dio ho queste espressioni attenzione libera adesione alla volontà di Dio la meditazione di qualche giorno fa bellissima non la meditazione ma quello che c'era scritto nel testo Gesù che dice la cosa più bella che ho creato è la volontà libera c'è la vita di scegli tu liberamente quello che vuoi farci con la vita ma non è bellissimo è certo pericoloso però è bellissimo che vuoi fare? bellissimo no? poi mediante la testimonianza di una buona coscienza dove la conosco la volontà di Dio quanto e quanto molte volte si è fraintesi anche su questa cosa si ho imparato nel corso della mia vita e cerco di trasmetterlo in tutti i modi possibili anche al rischio di essere frainteso o attaccato soprattutto dentro il mondo della divina volontà dove non mi sembra che sempre sia così chiaro questo primato della coscienza ovviamente la coscienza è rettamente formata noi abbiamo il dovere di formarla la coscienza ma nel cuore si può chiamare anche così la coscienza ci parla Dio tutti ne facciamo esperienza allora e cos'è la testimonianza della buona coscienza? è quando io agisco e in quello che agisco non avverto che sto facendo una cosa che non dovrei fare e questa cosa poi diventa difficile da capire quando ci va di mezzo che è il grande problema l'autorità l'autorità si può andare contro coscienza contro coscienza di fronte ad un ordine opinabile dell'autorità questo è un grandissimo problema questo qui morale perché certo che c'è l'obbedienza certo che c'è l'obbedienza ma con l'obbedienza si sottomette la propria volontà alla volontà altrui e questo va bene ed è atto sommamente meritorio ovviamente nella misura in cui l'ordine viene dall'autorità legittima riguardante un oggetto su cui l'autorità è competente e di per sé buono o lecito faccio subito un esempio per farsi capire io sto in monastero chiedo il permesso di uscire e quello mi dice non si esce in convento oggi non esci perché sta in convento a fare le funzioni che cosa c'è di male niente anzi c'è una grande mortificazione che dico tu guarda questi ora non fanno una passeggiata non mi mette mi mette a fare funzioni delle cose grandissimo merito grandissimo merito però non sempre ci sono come dire attestati di di questo di questo di questo gesto non gli esempi che mi vengono in mente sono politicamente scorretti però cerchiamo di arrivarci quindi l'obbedienza è la mortificazione della nostra volontà e a volte anche del nostro giudizio d'accordo giudizio significa io penso che questa cosa sia buona d'accordo me ne viene presentato un'altra che è diversamente buona e io dico vabbè rinuncio alla mia idea e sposo quell'altra però se è diversamente buona ma se quell'altra cosa è cattiva o mi ripugna proprio in maniera assoluta non perché non voglio farla ma perché il cuore proprio mi dice io non ce la faccio ecco i famosi conflitti di coscienza la testimonianza della buona coscienza dove si giudica soltanto il Signore lì entra soltanto Dio e quando noi non seguiamo quello che ci dice la coscienza ne dovremo rispondere a Dio anche se ma io ho fatto ma io ho fatto quello che mi ha detto tizio Gaio Sempronium mi sono fidato di lui va bene solo nella misura in cui però tu non hai contraddetto quello che ti sente che ti senti profondamente nel cuore ecco ok e la terza cosa lo sta e per quanto la creatura ha potuto conoscere di Dio cioè noi serviamo e amiamo Dio tanto quanto lo siamo riusciti a conoscere ed è in base all'amore e al servizio che gli abbiamo prestato sulla base della conoscenza che abbiamo avuto che saremo giudicati questo è morire nella sua grazia l'opposto è morire in disgrazia di Dio la vita terrena si deve concludere e riassumere in un semplice atto di accettazione della volontà di Dio Dio domanda a tutti questo semplice atto di volontà un sì proporzionato alla capacità di ogni essere umano anche se vive pochi giorni o poche ore nel grembo materno al sì creante di Dio deve corrispondere il sì libero della creatura che è immagine del creatore nessuno è esentato perché ogni essere umano è creato da Dio al piano soprannaturale con una vocazione celeste divina non dimentichiamo che l'uomo vivente è la gloria di Dio questa è una citazione di una frase molto celebre di un grande padre della Chiesa occidentale che è Sant'Ireneo l'uomo vivente l'uomo vivente è il concetto che Dio ha espresso di se stesso il corpo umano è generato in un momento determinato in un preciso spazio tempo ma la nostra anima spirituale non vi è chi possa dire sul serio in quale momento sia stata creata ma ad ogni modo dalla liberazione sappiamo che viviamo una sola vita mortale e che l'intera umanità tutte le generazioni abbiamo la nostra origine nell'incarnazione del figlio di Dio questo è il primo capitolo della lettera agli Efesini ci abbiamo fatto l'ora santa negli ultimi non questo non la precedente ma le ultime terze e quarte ora sante andando insieme nel tempo c'era proprio quest'inno lui ci ha scelti prima della creazione del mondo conciò il mistero per non rimane quindi sappiamo che viviamo una sola vita mortale e che l'intera umanità tutte le generazioni viviamo la nostra origine dall'incarnazione del figlio di Dio del primo genito fra tutte le creature creatura compresa la sua madre santissima non c'è una preesistenza delle anime come pensava Arlatone per esempio cioè che siano state create in un momento temporale precedente ma si potrebbe dire che sono create in un atto divino fuori del tempo al di sopra di esso semplicemente nell'atto dell'incarnazione del verbo è meglio dire se mi posso permettere di incorreggere Don Pablo non che sono state create fuori del tempo o al di sopra del tempo è meglio dire che siamo stati pensati da sempre io preferisco dire così pensati da sempre contestualmente con il primo pensiero di Dio fuori di sé che è stata l'incarnazione del verbo e la creatura il secondo che avrebbe utilizzato per realizzare questo prodigio e contestualmente a questo atto sono state pensate tutte le anime pensate non vuol dire create no? ecco perché è meglio dire pensare se io adesso mi attappo la bocca io posso continuare a pensare ma voi non mi sentite perché il pensiero diciamo così è creato e quindi anche visibile fuori solo se è esternato con la parola se io sto zitto il pensiero rimane per me e nessuno lo vede o lo sente o lo capisce ecco ebbene prima o poi in un solo istante o durante tutta la vita in mille modi Dio ci domanda senti un po' amico mi riconosci mi accetti vuoi venire con me? ah questo è l'ultima degli esseri umani arriva il momento in cui quelli che trionfano nella prova superata nella fede restano confermati definitivamente irrevocabilmente per sempre nel loro atteggiamento e decisione perché l'evidenza della verità di Dio che si rivela ad essi rimuove irresistibilmente verso Dio il sommo bene e l'unico bene la verità la bellezza la vita conservando intatto il libero arbitrio sentono irresistibilmente l'attrattiva di Dio come il sasso che gettato nel vuoto necessariamente precipita verso il centro della terra da dove usci allo stesso modo restano irrevocabilmente confermati nell'atteggiamento della loro volontà coloro che rifiutano Dio fino alla fine del tempo della loro prova quindi la morte e l'istacco dell'anima dal cadavere come la Chiesa ha sempre insegnato determina la cristallizzazione dello stato in cui si trova la volontà in quel momento ecco perché chi ci va all'inferno chi muore non in grazia di Dio chi è salvo chi muore in grazia di Dio salvo quindi vuol dire che abbiamo in purgatorio in paradiso che cosa rimarrà degli atti di esistenza di una vita bruciata e perduta per sempre ah certo è indistruttibile tutto ciò che proviene da Dio creatore tutto quello che forma ogni atto di esistenza nel suo corrispondente spazio tempo ma gli atti dei reprobi resteranno assurdamente privi di ogni ragione di esistere svuotati di ogni bene di ogni verità di ogni bellezza della sola ed unica vita quindi di colmi di odio di falsità di bruttezza di orrore di disperazione di morte senza poter morire né scomparire la perenne conservazione dell'intera esistenza vissuta dai dannati anziché essere inesauribile occasione di realizzazione di godimenti come per i beati sarà per i dannati perenne accusa perenne vergogna perenne confusione perenne amarezza perenne odio perenne disperazione capiamo questo qui no? sicuramente quegli atti saranno conservati quanto meno nella memoria cioè tutta la storia tutta quanta presente in Dio cioè noi quando quando saremmo morti se vogliamo andare a vedere che è successo ai tempi dell'impero romano ai tempi dell'imperatore Adriano Adriano non era un santo ma se rimanessero i pensieri di Dio soltanto i santi e le cose sante cioè sparirebbe quasi tutto insomma della creazione no? quindi però mentre i beati si rigodono tutte le cose belle della vita le possono anche come abbiamo visto rielaborare modificare abbellire io non lo so sinceramente se ai dannati gli verrà voglia di andarsela rivivere quindi o se semplicemente li ricorderanno è questo sicuro con l'orrore con la disperazione e magari percependo ancora tutto quanto il carico di male che attraverso quegli atti hanno generato e che adesso scontano sicuramente però sarà un orrore è ciò che diventa la loro vita in tutti gli spazi e tempi vissuti ma non distrutti un solo punto di tenebre così come per i beati tutta la loro vita si concentrano un solo punto di luce nel giorno del giudizio si spenderanno come scintilla nella stoppia correranno qua è la sapienza 3-7 c'è poi una conclusione che magari possiamo usare al termine di questa puntata questo è quanto amici miei cari quindi al termine di tutto quanto questo viaggio possiamo un pochino sintetizzare così il signore ha esaudito una preghiera di questo uomo che desiderava tanto vedete anche quanto possiamo a volte essere un pochino arditi in qualche preghiera desiderava tanto farsi delle certezze un pochino più solide sulla realtà escatologica non è che non ci credeva ma voleva un pochino e gli è stato concesso una preghiera che è stata esaudita è una cosa buona questa questa preghiera perché in fondo questa questa preghiera non è altro che un altro modo per dire sia santificato il tuo nome no? perché conoscenze pratico operative come le chiamate di questo genere sono un enorme input verso la santificazione perché tu insieme a quello che vedi capisci che tutto questo lo godrai più o meno a seconda di quanto ti sei fatto santo e quindi è una conoscenza che può aiutare no può di fatto certamente aiuta enormemente la santificazione quindi pur trattandosi di cosa straordinaria nostro signore può decidere come in questo caso ha fatto di concederla appunto perché è utile per la santificazione non solo poi di Riccardo certamente il signore sapeva che avrebbe messo il nero su bianco ma di molti altri che avrebbero beneficiato e goduto di queste stesse rivelazioni e quindi questo è già sufficiente per per andare in tanta roba ancora altra cosa che abbiamo imparato è che tutte le pagine bianche della nostra esistenza sono scritte e che dobbiamo fare attenzione a quello che scriviamo che fino a quando siamo in questo mondo siamo legati agli spazi tempi dell'istante attuale abbiamo un mazzo di carte dove vediamo sempre l'ultima carta non possiamo vedere quelle precedenti non possiamo andare a immaginarci quelle successive ecco quindi siamo in questo stato di interdizione siamo in stato di interdizione nel senso che sappiamo che Dio ha pensato e disposto una montagna di amori per noi ma qui in questa terra non si può dire quasi niente sentiamo l'attrattiva quindi a vari livelli ma possibilità pratico operative salvo l'amore sponsale tra marito e moglie il resto è quasi zero capite no? e questo non faccia scandale perché qualcuno che scandalizza mi ricordo qualche commento in qualche catechesi dei tanti che mi tocca moderare che poi non ho tempo dice oh ma io mi sono scandalizzata ma questi sono tutti e due sposati che fanno adesso si danno i baci compenetrativi ma quello c'ha la moglie e c'ha il marito è chiaro se uno si mette ad analizzare queste cose con questa mentalità lasci perde e si applica a qualcos'altro è lo stesso discorso di chi si scandalizza di quando alcune mistiche e due sono attestate io ne conosco due una è Luisa Piccarreta e una è Santa Margherita Maria Lacocque che cominceremo a rievocare tra poco il Mese del Sacro Cuore e quelli hanno avuto dei rapporti con Gesù di amore appassionato Gesù a Luisa gli dava i baci io ricordo che cade con qualcuno che si era un pochino scandalizzato dice ma no non sono i baci mica sono i baci come quelli dei due innamorati ma sarà un bacetto sulla guancia sarà un bacetto sulla testa io ho capito diversamente dopodiché c'è proprio un passaggio degli scritti un po' un po' forte dove però si spiega che tipo di baci dava il nostro signore a Luisa non erano i bacetti è chiaro che cosa fanno capire queste cose che noi abbiamo degli schemi mentali abbiamo visto la volta scorsa anche Don Pablo dice ma che idea ci siamo fatti del paradiso che cos'è il paradiso una cattedrale dove stiamo sempre a cantare in Gregoriano per carità speriamo che qualche canto Gregoriano si faccia pure in paradiso perché a me piacciono tanto ma chi te l'ha detto che è così il paradiso scusate ah no queste cose di Ternamela tutte quante fantasie che sono queste cose qua e poi i grandi piatti i grandi i grandi i grandi liquori le grandi pietanze ma queste che cosa sono 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 sciocchezze sono stupidaggini sono antropomorfizzazioni è stata usata una parolaccia brutta 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 c'è proiezioni di queste cose basse ma te pare che in paradiso che c'è sta il paradiso uno sta a pensare a bersi il liquore così buono o a fare le danze dentro i vulcani allora chiaramente Ternamata non è un dogma di fede e quindi è materia libera padronissimo di pensare così d'accordo tanto comunque sia pensa quello che ti pare tanto tra cent'anni di tutti quelli che ascolteranno a breve sta catechesi perché non so se tra cent'anni ci starà ancora YouTube che fine avrà fatto e se tra cent'anni pensa un po' se Leonardo chiacchiera pure dopo che è morto se sarà ancora di video speriamo che il nostro signore faccia un bel reset e pulisce tutto insieme a tante altre cose ma per dire tra cent'anni avrà un istituto tutti quanti può darsi che Ternamata ci abbia ragione può darsi che ci abbia torto su queste cose per grazia di Dio ecco anche qui abbiamo la libertà di coscienza come su tante altre cose io queste cose le invoco nel senso che i dogmi della Chiesa non si toccano cioè qui non c'è in discussione nessun dogma c'è soltanto come dire una lettura approfondita di alcuni dogmi di fede ci credi nella vita eterna che succede nella vita eterna ho fatto le catechesi sui nuovissimi si vadano ad ascoltare la Chiesa sa che c'è una gloria essenziale in paradiso è una gloria accidentale Ternamata parla della gloria accidentale e la dettaglia la Chiesa non ha mai dettagliato così come non ha mai detto qualcosa è stato il peccato originale e c'è stato al circo le catechesi dell'anno scorso la Chiesa non l'ha mai detto ma ci hanno pensato pure fior di padri della Chiesa e qualcosa l'hanno scritto perché non è che cioè io perché a me mi chiamavano in seminario la Santa Inquisizione perdonatevi potete anche immaginare perché no perché figuratevi se io non sono il primo a provare almeno queste sono le mie intenzioni a essere più che fedeli al Magistero della Chiesa ma non è che uno ha il bavaglio quindi se una cosa non è stata definita dal Magistero non se ne può parlare se ne può parlare purché non sia contro il Magistero se è contro bavaglio ma se non è contro si può parlare tant'è vero che un noto adagio antichissimo nella Chiesa è in necessaris unitas in dubis libertas et in omnibus caritas cioè nelle cose necessarie ci vuole l'unità e oggi figlioli miei cari non è che è tanto chiara se una cosa era male cent'anni fa non è che oggi se volete fare proprio mettere a dura prova la pazienza e il rischio che perde il lume della ragione è quando si sente dire da qualcuno la Chiesa è cambiata la Chiesa non è cambiata neanche per niente perché la Chiesa non può cambiare la Chiesa con la C maiuscola certo possono cambiare le cose esterne possono cambiare le strutture le leggi umane una volta c'era il Santo Uffizio ora si chiama Congregazione della Dottrina della Fede una volta c'era l'Inquisizione ma non ci sta più questi sono contorni ma quando si parla della Chiesa la Chiesa si intende la Sposa di Cristo la Chiesa Santa la Chiesa è Santa per la Dottrina per la Fede per i Sacramenti quindi per i mezzi di santificazione e perché produce i santi queste cose non cambieranno mai quindi attenzione anche a quando io divento insomma una quindi però nelle cose necessarie l'unità e oggi non mi sembra che ci sia sempre perché qualcuno in cose che dovrebbero essere ovvie si azzarda a arrampicarsi come dire a dire ma sì forse da un punto di vista pastorale ma sì dobbiamo aprire nuove frontiere nuove prospettive nuovi orizzonti è ora che ci apriamo un po' su tutto quello in cui questo è possibile nulla questio ma su quello in cui questo non è possibile questio è come però indubbis quindi ci ho detto quindi non si tocca il magistero ci stanno delle cose indubbie e quindi lì libertà uno può tranquillamente dissentire non ci credi che il peccato originale ha a che fare con con la sessualità quindi la dimensione sessuale del peccato originale poi come è stato quello il peccato originale o quella la conseguenza e non ci credi e se campa lo stesso l'importante è che tu credi che il peccato originale è stato commesso uno da Adamo come capostipi dell'umanità che l'ha coinvolto su istigazione della moglie che Eva a sua volta istigata da Satana che questo è un peccato che ha vulnerato irreversibilmente il genere umano e che viene trasmesso per propagazione attraverso il concepimento e se toglie col battesimo ma ne rimangono le conseguenze negative questa è la dottrina cattolica altro non c'è da però posso andare a aprire degli orizzonti dice ma che sarà stato questo peccato originale che fa tutti sti guai si può sulla base di qualche piccolo elemento se può uno raggiunge delle conclusioni e chiaramente presenta conclusioni in forma non perentoria non come dogmi di fede ma come conclusioni che appaiono verosimili probabili ragionevoli possibili di qualunque epiteto che si vuole dare io chiaramente non avrei fatto questo ciclo di catechesi dopo che l'ho letto sette o otto volte il libro di tenere la mano anche per capirci un po' e le cose che trovo scritte le trovo oltremodo verosimili e sto usando un'espressione ancora un pochino limitata oltremodo così come ritengo oltremodo attendibile altrimenti non ci farei le meditazioni quotidiane quanto rivelato da Gesù a Luisa Piccarreta e così come guai a chi me la tocca ritengo un dono grande del cielo ciò che Gesù ha fatto attraverso Maria Valtorta ma ci sono per esempio persone sante persone buone persone brave che non hanno per esempio alcuni che Luisa Piccarreta hanno proprio niente altri che per esempio hanno un'idiosincrasia verso Maria Valtorta oppure condizionati dalle vicissitudine per quanto mi riguarda scatenate dall'odio satanico però questa opinione mia personale vissute dagli iscritti fanno difficoltà oppure magari un po' troppo frettolosamente bollano quelle cose come spesso gli uomini fanno come fantasie o addirittura farneticazioni di una pseudomistica io insomma suggerirei sempre evitare queste cose un po' troppo così uno può dire ah beh io personalmente non mi convincio un granché però in dubis libertas e in omni bus caritas però in omni bus caritas io quando parlavamo del peccato originale c'era una posizione di un santo sacerdote che scriveva delle cose che io per dovere di correttezza ho riportato io dico io chiedo perdono già da adesso al signore perché se questo è un santo e magari c'è pure ragione e io non l'ho capito non mi prendo certo non mi sono preso la responsabilità di dargliene addosso di tutti i colori però alla mia coscienza attuale queste cose al momento ripugno non ce la faccio a dargli l'assenso poi se un giorno il signore mi farà capire qualcosa la mia coscienza come dire si evolverà e capirò padronissimo quindi cioè non mi sento di spero di non averlo fatto perché se l'avessi fatto me ne pento già da priori quindi lanciare strali o anatemi o cose di questo ma appunto perché sono cose dubbie se qualcuno ritiene opportuno crederci lo faccia ecco c'è bisogno anche sulle cose dubbie ecco perché la terza è nominibus caritas di un profondo come dire rispetto cioè non è un dogma di fede certo dice ma non so cose tanto belle se uno ci credesse sarebbe molto molto meglio e certo perché altrimenti non sarebbero stare date dal cielo se non ti farebbero andando meglio però se quello ancora non l'ha capito non lo capirà a forza di insulti perché di insulti non si fanno mai tra noi cristiani no o di umiliazioni o dire quell'imbecilo non capisce niente perché va dietro a quella falsa mistica purtroppo qualcosa di questo genere in giro si trova ahimè in nominibus caritas e lo dico anche a me perché non è detto che io non essendo tutt'altro che perfetto vi prego di credermi e di pregare per me non a mia volta in qualche esternazione non manchi ahimè mi dispiace e chiedo scusa prima durante e dopo non manchi la carità perché magari mi scappa ma non va bene perché se una cosa dubbia qualcuno la pensa diversamente da te è pazienza pazienza è lecito perché è una cosa dubbia se si mantiene la calma come dire la pacatezza e l'apertura al confronto magari si possono anche cambiare idee dilatare gli orizzonti ecco quindi il lavoro fatto per quanto mi riguarda è perfettamente possibile lecito se non anche legittimo chiaramente lo consegna l'attenzione di chi vorrà ascoltarlo ha avuto un discreto credito perché le cose che dice Teneramata sono meravigliose se fosse se fosse vero come personalmente io ritengo altrimenti non avrei fatto perché anche il numero di puntate si è arrivato non so se la 38esima la 39esima non lo so quindi non avrei perso impiegato mesi su mesi se non avessi avuto come dire il sentore che che questa è una cosa attendibile è la 38esima puntata controllata adesso così non diciamo sciocchezze e quindi siamo arrivati alla fine ringraziamo il Signore se da tutto questo è uscito qualcosa di buono e di edificante per le anime io come sempre chiedo perdono per tutto ciò che a causa della mia miseria pochezza è venuto meno bene o è stato addirittura non ho spiegato bene non non adeguatamente approfondito abbiate sempre compassione e pietà perché ecco uno fa del proprio meglio ma l'imperfezione strutturale io lo chiamo così ci almeno mi precede mi accompagna e mi segue quindi è sempre tutto quanto altamente perfettibile però questo è concludo con la preghiera che Don Pablo scrive al termine del suo libretto di commento il mio soffrire è una chiavina d'oro piccola sì ma mi apre un grande sole è croce mia ma è croce di Gesù quando l'abbraccio non la sento più non ho contato i giorni del dolore ma Gesù li ha scritti nel suo cuore vivo momento per momento e allora il giorno passa come fosse un'ora due stille ancora dell'amaro pianto e poi in paradiso l'eterno canto sono ben certo che guardato dal di là la vita tutta un attimo parrà passa la vita vi gira di festa muore la morte il paradiso resta resta in terra per chi fa la divina volontà bello è il paradiso e in paradiso poi per tutta l'eternità e siano rodati Gesù e Maria e Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti